Come fare il partigiano? Per modo di dire perché si era sempre a casa, assieme ai genitori, eccetera. Però feci la mia scelta e dovevo trovare un punto giusto, fondamentale, per fare il partigiano. Ed era questo. Allora sono presentato perché hanno fatto i tedeschi quel famoso bando che i rimettenti di leva che ne si presentavano a fare il militare sarebbero stati fucilati, se presi, beni saccheggiati, genitori perquisiti, eccetera. Allora mi sono presentato anch'io e ho aspettato il momento propizio che è venuto quando ci hanno portato a Pontasieve, a Firenze, non so per quale motivo, in treno con l'attrodotta, hanno bombardato l'attrodotta e lì siamo riusciti a scappare. Dunque, siccome avevo sempre il desiderio di fare il partigiano, abbiamo chiesto in zona a Pontasieve se c'era la possibilità di contattare i partigiani. Fu fatto tramite dei collegamenti che c'erano sul posto, ci hanno portato in una base partigiana che c'era sui montagni. Lì ci hanno trattenuto un paio di giorni, ci hanno dato da mangiare, puliti, eccetera. E a un bel momento il comandante ci chiamò e ci disse ragazzi, se volete fare il partigiano, voi dovete farlo, ma nella vostra zona. Cioè tutta l'Italia deve essere comprisa nel lotto partigiano. e ci spiegò, e ci convince su questa cosa, su questo fatto. Quindi, molto gentilmente, lui ci fece accompagnare fino quasi a Bologna, per mezzo della montagna. E da Bologna ad Argente eravamo in cinque, siamo venuti a piedi di notte, di notte per non farci vedere, eccetera, e siamo riusciti ad arrivare finalmente a casa. A quell'epoca c'era già un po' di movimento anche in Argente e siamo andati a finire in una tenuta a buon cambio, che era il contadino Mainardi Attilio. Eravamo i cinque partigiani che si stava in mezzo alla campagna, di giorno, di sera si usciva per fare qualche azione, perché allora era molto più facile fare le azioni, in quanto non c'era quel famoso decreto che ogni tedesco che veniva ucciso, eccetera, venivano fucilati dieci civili, insomma. In quel momento era molto facile fare il partigiano, perché se ti scappava un colpo, ammassavi un tedesco e poi andati al suo notore, gli sarangeva loro a fare i suoi lavori. Quindi però dopo le cose cambiarono, cambiarono in modo seriamente, perché quando per un'azione fatta malamente, diciamo, venivano a uccisere un tedesco, quindi dovevano pagare dieci civili, quindi la cosa incominciò allora ad essere molto delicata. Ecco, mi fermerei qui. Grazie. Grazie.